Spesso ci sentiamo atterriti, stanchi, tristi ed impauriti. Nonostante ciò, come spinti da una forza mistica, riusciamo ad andare avanti e risorgere più forti di prima. Questa nostra forza è il coraggio. Troppe volte non ci rendiamo conto di utilizzarlo, ma è presente in molte delle nostre azioni quotidiane, anche le più semplici. Siamo coraggiosi quando affrontiamo una nuova sfida fisica, battiamo un nuovo record o giù di lì. Siamo coraggiosi quando iniziamo a dire posso farlo, anziché non posso. Siamo coraggiosi quando non ci vergogniamo di noi stessi. Siamo coraggiosi anche quando capiamo che qualcosa non vuole. Siamo coraggiosi quando riusciamo a guardarci allo specchio. Siamo coraggiosi quando siamo fieri della nostra pazia e l'unicità. Siamo coraggiosi quando in un gruppo di persone con un'idea differente cerchiamo e lottiamo per difendere ciò il più incredibile. Siamo coraggiosi quando ci fidiamo di Dio. Siamo coraggiosi quando, come Gesù, riusciamo a guardare oltre ciò che ci blocca. Siamo coraggiosi quando non rimaniamo più stregati e immobili davanti alle difficoltà, ma ci corriamo incontro. Siamo coraggiosi quando affrontiamo la vita oltre all'incanto. Siamo coraggiosi quando, come Gesù, riusciamo a guardare oltre all'incanto.